Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi non faremo alcun tipo di recensione, ma andiamo a fare una panoramica generale della telefonia a fine 2012. Come prima cosa andiamo a vedere i maggiori colossi della telefonia in questo momento. Partiamo subito dal sito Apple, che cosa ha fatto Apple quest'anno. Apple quest'anno ha pubblicato ben 4 dispositivi, per cui un iPhone e 4 tablet. L'iPhone è l'iPhone 5, è famosissimo, ne hanno venditi tantissimi, è costruito bene, i materiali sono bensì bellissimi, ma comunque girano tantissime voci che si rovinano. Io non ho ancora visto uno rovinato, ma sono forti le voci che denunciano l'usura della scocca laterale. Per quanto riguarda invece gli iPad, abbiamo tre iPad lanciati quest'anno, l'iPad di terza generazione, l'iPad di quarta generazione, questo qui, e l'iPad mini. iPad di terza generazione, che è fondamentalmente un tablet potentissimo, display in retina estremamente potente, sostituito dall'iPad di quarta generazione, che è bensì ancora più potente per avere un'esperienza di gioco, più che di gioco un'esperienza multimediale, veramente veramente ottima. Per quanto riguarda l'iPad mini, invece, lanciato lo scorso ottobre, mi sembra, al costo di 329 euro, è stato fatto, a parer mio, per far concorrenza al Google Nexus 7. Per quanto riguarda invece le generalità di Apple, lanciato anche a EOS 6, ma ne parleremo in seguito. Le note sono nate di Apple, sono il sistema operativo e comunque i prezzi che sono veramente, veramente altissimi. Per quanto riguarda la concorrenza principale, è Samsung. Samsung, che quest'anno lancia numerosi prodotti, tra cui tutta la gamma smartphone, rifatta completamente, Galaxy S3 e Galaxy Note 2. Galaxy S3, lanciato in questi ultimi giorni nella Black Edition da 64 GB, inizialmente è lanciato ad un prezzo alto, adesso si sta notevolmente abbassando. Lo trovate all'incirca sui 500-450 euro massimo. È lanciato anche Galaxy S Advance, un incrocio tra un S1 e un S2, e è lanciato anche il Note 2, che è il miglior dispositivo sul mercato per un uso a 360 gradi. Per quanto riguarda invece i tablet, abbiamo il Galaxy Note 10.1, che è il miglior tablet Android da 10 pollici in questo momento. Oltre ad avere una risoluzione altissima dello schermo, ha un processore molto potente e con l'uso della penna, l'interazione con il sistema è veramente, veramente ottima. Per questo Samsung è sulla strada giusta, inoltre con gli aggiornamenti possiamo dire che sta notevolmente migliorando perché sono stati aggiornati Galaxy S3 e Galaxy S2 nel giro di 4 mesetti a Jelly Bean. In arrivo anche l'aggiornamento per il Note, mi sembra, la seconda versione di Ice Cream Sandwich, mi pare. Passiamo a Nokia, Nokia in netta risalita, risalita perché con Windows 8, i nuovi due Nokia pubblicati, cioè l'820 e il 920, sono sicuramente due ottimi telefoni, estremamente fluidi, puliti, ottimi. L'unica cosa che si donna, secondo me, sono un po' i colori e la bassa risoluzione dello schermo del Nokia Lumia 820, che è ancora un 800 per 480 pixel. Per il resto il lavoro stato fatto resta molto alto il prezzo, che si aggiorni intorno ai 600 euro per il Nokia Lumia 920. La commercializzazione invece è ottima perché c'è pubblicità praticamente dappertutto. E Nokia ha una politica amichevole verso i clienti, al contrario di quelli che possono avere altre case produttici. HTC, diciamo, non al massimo quest'anno, pubblica HTC One S, One V e One X, che sono i top di gamma, della stagione iniziale, per quanto riguarda Android. E sì, HTC One X verrà aggiornato a Jelly Bean, mentre One X Plus è il nuovo uscito da poco. È un One X sostanzialmente potenziato, con la collaborazione sempre di Beats, con un processore più potente, un'ottimizzazione di sistema migliorata e comunque con nuove funzioni, leggermente più veloce e potente. C'è da dire che gli HTC Android non sono assolutamente al livello di quelli Samsung. Samsung, aggiornando costantemente i propri dispositivi, anche con lentezza a volte, riesce ad avere una gestione di sistema nettamente migliore a quella che si può avere su HTC One X. Per quanto riguarda invece la gamma dei Windows Phone, passando da Android a Windows Phone, notiamo questi due nuovi telefoni, Windows Phone 8X e Windows Phone 8S. Sono entrambi due telefoni con uno schermo ampio, con una gestione ottimizzata di sistema e vanno veramente alla grande. Windows Phone, con l'ultimo sistema operativo, cioè l'8, ha creato un'interazione tra tutti i dispositivi Windows veramente ottima. Per quanto riguarda invece la nuova annata ZTE Italia, siamo sul sito aperto da poco, ZTE è un colosso cinese della telefonia. In Italia ha pubblicato ancora pochi telefoni, questo è quello che è stato commercializzato da poco, ZTE Grand X Classic. È un Android Scream Sandwich 404, dual core da 1 GHz, il processore quindi è ancora abbastanza vecchio, è un Mediatek MT6577, le dimensioni sono buone, si parla molto bene della batteria, il display da 4,3 pollici. Adesso ci asteniamo da dare opinioni su ZTE, aspettiamo che questo colosso cinese entri per bene nel mercato italiano prima di dare giudizi fondati. Passiamo ad Away, altro colosso cinese in espansione. Away pubblica bastanti telefoni all'anno che comunque fanno fatica a vendere. I due più importanti sono Away Ascend D1 Quad XL e Away Ascend P1, gli altri sono tutti telefoni media-bassa gamma, ma anche quelli di top gamma, pur costando nettamente meno alla concorrenza principale, fanno fatica a essere venduti. Away sta spingendo anche sul fattore della pubblicità, nonostante il prezzo sia comunque molto basso. È un mercato che deve ancora espandersi in maniera giusta. Passiamo ad Asus. Allora, Asus con il PadFone è stato un punto di rattura tra i telefoni nuovi e vecchi, perché il PadFone è stato il primo telefono pubblicato nella scorsa estate che si poteva infilare direttamente dentro all'apposito tablet. Ora, di PadFone se ne vedono pochissimi in giro perché costano tantissimo, e soprattutto da poco è uscito il PadFone 2, veramente innovativo, una velocità di sistema quad core estremamente potente. 16 ore di conversazione, leggero solo 649 grammi, ma comunque l'unica nota stonata è sempre quella, il prezzo. A fronte di un ottimo dispositivo il prezzo per solo il telefono è di 599 euro, mentre di tutto il bundle completo c'è telefono più tablet è di superiore a 800 euro, mi parla da 799 a superiore. Passiamo ad LG, eccoci qua, LG quest'anno hanno nero di LG, come è un anno nero per l'Italia, un anno nero anche per LG, vengono pubblicati quasi 7-8 telefoni, ma nessuno di rilievo. Quello più interessante è sicuramente LG Optimus 4X HD, quad core 3, ottime sono le prestazioni, peccato perché i numerosi lamentano il surriscaldamento della batteria nella parte della scocca del retro, ovviamente. Per il resto è un dispositivo che fa fatica a venire aggiornato e inoltre è stato pubblicato anche LG Optimus V, che è una sorta di scoppiezzatura del note, è venuta molto molto male. Per quanto riguarda invece l'ultima parte di serie di LG, sono la serie L, cioè LG L3, L5, L7 e L9, che a parte i primi due sono buoni telefoni, anche se hanno un costo che veramente è elevatissimo. Altra due note fondamentalmente negative di LG, la lentezza nel aggiornare i dispositivi praticamente non li aggiorneranno mai, condoglianza a chi ha comprato un LG Optimus Dual, e comunque la cattiva scelta di non vendere Nexus 4 in Italia. Nexus 4 è un telefono fatto da Google, soltanto l'hardware è fatto da LG, che comunque ha un sistema operativo avanzatissimo, ma in Italia non verrà venduto, scelta da LG. Non so, inizialmente si erano fatte sentire numerose proteste contro LG perché il prezzo fissato in Italia si aggiornava intorno ai 500-550 euro, mentre nei Play Store degli altri paesi europei, ad esempio in Germania, Franza, era fissato a 350 euro e in Inghilterra 349 sterline. Ora, la mancanza del Play Store in Italia, cioè di un vero e proprio market online per comprare dispositivi fisici, ad esempio Nexus 7 e Nexus 4, non ci dà la possibilità a noi italiani di acquistare questo ultimo nuovo nato di casa LG barra Google. Questa cattiva scelta di LG ci porta a sperare che nei prossimi anni magari qualcosa accada e che si diano tutti una bella mossa. Per quanto riguarda Sony, abbiamo praticamente Sony rilancia un dispositivo ogni tre giorni. Qui abbiamo un Xperia I, ma c'è l'Xperia S, l'Xperia Arc S, che è ancora della gamma Sony Ericsson. Lancia tantissimi prodotti e li chiama ognuno con ogni lettera diversa. E facciamo una fatica cane a capire quali siano le differenze. Qui abbiamo le V, J, T, M, Tipo, ION, HSDPA e Go. E poi ce ne sono anche degli altri, tra cui il P, U, Sole, S, Walkman Pro. Questi sono ancora i vecchi Sony Ericsson, tra cui c'è anche il famosissimo Arc S. Sony punta, secondo me, a vendere più telefoni possibili, indipendentemente da quale vende. Lui punta a fare soldi e così può essere una normale politica. Comunque qualche telefono Sony si vede in giro, soprattutto l'Xperia S, che è un buon telefono. Ottimo, invece, è Xperia ION, vediamo se riesco a trovarlo in mezzo a tutto questo qui, che, diciamo, si avvicina come prestazione in 4,6 pollici di display, in alta definizione, a un Galaxy S3. Questa è la panoramica generale delle case costrucite di telefoni, andiamo a vedere i sistemi operativi. Sistemi operativi, che sono fondamentalmente tre, sono i più importanti. Partiamo da Apple, da sinistra verso destra, Apple pubblica iOS 6. iOS 6 era stato annunciato come il sistema operativo più evoluto al mondo, ma che così, sinceramente, non è stato. Abbiamo visto le nuove novità, ecco, le mappe ridisegnate da Apple, Siri, l'interrogazione con Facebook, lo streaming foto, più di 200 altre novità che vede solo Tim Cook. Adesso, non drammatizziamo, le mappe sono notevolmente calate rispetto a quelle che erano presenti con Google Maps. Google Maps non c'è niente da fare, è il meglio perché è un ecosistema. Tutte le cose che con Google Maps puoi trovare, puoi fare, sono grazie al web, grazie all'iterazione che c'è tra utente e Google. Mentre Subtom Tom, pur essendo la miglior casa costruttrice di navigatori al mondo, forse, insieme a Garmin, non lo so, sto ipotizzando, fa ancora fatica, iPhone molte volte ci fa perdere addirittura. Per quanto riguarda invece l'interfaccia, secondo me va data una notevole ripulita, sono tante le iconi che non servono, e comunque dovrebbero, secondo me, ridisegnare la grafica e dare qualcosa di innovativo e nuovo al sistema. Una bella rinfrescata, perché iOS 6 non è considerato, a parere mio, un vero e proprio aggiornamento, ma è soltanto una miglior release di iOS 5. Passiamo a Android, questa è la vera rivoluzione. Android 4.2 Jelly Bean su Nexus 4, Nexus 7 e Nexus 10. Sono la gamma di dispositivi Nexus veramente ottimi, il tablet da 7 pollici di Asus, in collaborazione con Google, sto parlando del Nexus 7, è veramente un ottimo dispositivo, fatto per la casa, fatto per essere trasportato, fatto per la famiglia, fa veramente tutte le esigenze di cui voi necessitate. Per parlare di Windows, ottima comunque la parentesi Android, è Windows 8. Windows 8 è un incrocio tra tante cose. Windows ha voluto unificare tutto facendo da desktop, tablet e smartphone, tutte le stesse interfacce. Allora, finché si parla di smartphone e tablet, può essere ancora considerata come una buona cosa, perché comunque su tablet la velocità di scorrimento delle pagine è veramente immediata, e su smartphone il sistema è ottimo. Però ha due pecche. La prima è l'iterazione che si ha col PC. Se noi accendiamo un PC Windows 8, anche gli utenti abbastanza capaci di usare sia Mac che PC, non sapranno come andare avanti, perché l'interfaccia è stata totalmente ridisegnata, e per uno che non è esperto di Windows 8 è un po' difficile orientarsi. Non date tanto peso alle mie parole, piano piano tutti si abitueranno, come in tutte le cose, ma all'inizio farete fatica. Per quanto riguarda la seconda nota stonata, è il prezzo, prezzo un pochino troppo alto, anche per i Windows 8, per quello che offrono. Per il resto Windows sta facendo grossi passi in avanti per quanto riguarda la multimedialità, il collegamento tra piattaforme l'un l'altro. Andiamo a vedere le offerte che ci sono in questo momento. Siamo in periodo natalizio, quindi tante sono le case, compagnie telefoniche, che vi vogliono rifilare l'offerta di turno. Allora, Tim fondamentalmente quest'anno ha fatto un grande anno di rinascita, dopo due anni bui è riuscita comunque a rubare una grandissima parte dei tempi a Vodafone con Tim Young. Per quanto riguarda Vodafone, invece siamo in netto calo, Vodafone Square è un furto e sono poche le offerte generali per un uso a 360 gradi del telefono. Wind è al terzo posto. Wind, come vedete in questo caso, punta a rifilarci un'offerta che dura cinque anni. Non perdete tempo, ti aspettiamo nei negozi di Wind fino al 13 gennaio 2013. Adesso Wind punta su una nicchia di utenti che usano il telefono per mandare messaggi e telefonate, quindi un utente medio di media età, normalissimo. 3 invece ogni tanto mi fa venire da ridere perché pur essendo la miglior compagnia telefonica italiana per quanto riguarda gli abbonamenti tra Apple, Blackberry, HTC, Away, bla 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 e tutti quanti, fa ridere per questo. Rete velocissima, 42 MB per secondo. Allora, non so se voi avete mai visitato in treno con una SIM 3. In treno fa cambio di cella ogni 10 secondi. Non che una SIM Vodafone, Team 3 o Wind non lo facesse, però possiamo notare come 3 dovrebbe puntare su espandere la propria rete in tutto il paese e comunque a farla continua perché in molti punti vai a roaming con Team e ci fa spendere un sacco di soldi per quanto riguarda la navigazione web se uno non ha disattivato il roaming. Per il resto i progetti sono buoni ma come già detto deve puntare a avere una rete stabile prima su tutto il paese e poi puntiamo a fare queste cose. Già sono due progetti di 4G tra Team e Vodafone. Nuova nata come ultima cosa Bitmobile, nuove offerte, Christmas Edition un centesimo al minuto verso tutti per sempre, corre fino ad esaurimento scorte, fa un po' come Wind, punta a lanciarti l'offertona e tu ti abboni e ti infiletto. Per quanto riguarda invece i messaggi, no, per quanto riguarda la navigazione web c'è MegaBip ma non è un'offerta a parer mio interessante. Poi c'è l'offerta di triplicare le ricariche che se si spassa a Bitmobile entro marzo 2013 ci triplicano le ricariche. Dopo questa panoramica generale su tutti gli ambienti della telefonia in questo momento non mi riesco a che augurarvi un buon Natale e buone feste. Un saluto a tutti gli amici del canale YouTube, spero di vedervi alla prossima recensione. Ciao!